Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, la verità sulla crisi e il post social Il commento su Instagram dopo le ultime indiscrezioni del settimanale nuovo. Cancelletto Michelle Hunziker stronca le voci relative alla crisi con Tommaso Trussardi, con una dedica social che ha fatto il giro del web per lentusiasmo dei fan della coppia. Non è la prima volta che la conduttrice di Striscia la notizia finisce al centro del gossip per presunti frizioni con il marito. Nel corso del festival di Sanremo circolarono voci relative ad un presunto litigio per un balletto troppo audace e qualcuno rimarcò limbarazzo del marito in occasione del bacio della showgirl nel corso della prima serata. Nei giorni scorsi il settimanale nuovo aveva riferito di presunti incompressioni tra la 41enne e l'amministratore delegato dell'Evriero a causa delle differenti personalità. In sintesi, secondo il periodico, il riservato Trussardi avrebbe manifestato insofferenza per il temperamento troppo aperto della moglie. Due modi diversi di interpretare la vita che secondo quanto riportato dalla rivista potrebbero, alla lunga, determinare delle crepe nel rapporto. Diametralmente opposta alla visione del settimanale chi che ha pubblicato una serie di scatti in love della coppia. La dolce dedica della Svizzera al marito. Foto che trasmettono amore e complicità e che sembrano in netto contrasto con le voci che vorrebbero Trussardi e la Hunsiker sull'orlo di una crisi di nervi. In buona sostanza la coppia ha replicato con immagini inequivocabili alle voci circolate negli ultimi giorni. Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio la conduttrice televisiva ha pubblicato sui profili social una dolce dedica che dissolve qualsiasi dubbio sull'attuale momento vissuto dalla coppia. In occasione del 35esimo compleanno del marito l'artista svizzera ha deciso di esternare i suoi sentimenti nei confronti dell'imprenditore con buon compleanno vita mia, ti amo. Il post è stato accompagnato da una foto che ritrae Trussardi e la show girli in un momento di tenerezza che in pochi istanti ha conquistato una pioggia di liche e tanti elogi. Il ringraziamento pubblico ad Anna Tatangello. Manifestazioni d'affetto che la Hunsiker ha esternato anche su Stories con un grande cuore. Non solo tenerezze nei confronti del marito con la show girli che ha pubblicamente ringraziato Anna Tatangello, per aver devoluto metà della somma vinta a Celebrity Master che fa l'associazione WP a difesa. Un gesto che mi emoziona profondamente e che non è per niente scontato.